Il circolo Guido Faletra del PD di Caltanissetta affronta le criticità legate alla sanità in provincia riguardanti la qualità del servizio del Sant'Elia. Il circolo chiede un incontro, dibattito pubblico con i vertici sulla situazione attuale della sanità territoriale. Salute e cittadinanza sono due facce della stessa medaglia. Se la prima non è riconosciuta, la seconda è negata. Eppure in Sicilia e Caltanissetta il diritto a un sistema sanitario degno di questo nome non è pienamente riconosciuto per troppe cittadine e troppi cittadini. Sin dal 2019 l'ospedale Santeria è individuato dalla regione siciliana quale idea di secondo livello, baricentro di un sistema ospedaliero che dovrebbe rivolgersi potenzialmente a oltre un milione di abitanti. Ma mancano strutture, mancano mezzi, manca personale, mancano risorse, mancano interi reparti che pure la normativa prevederebbe esistenti. Il PD di Caltanissetta ha contestato più volte questa situazione, ma la protesta da sola non basta più. Per questo pensiamo ad un grande dibattito pubblico sulla sanità nissena e vogliamo realizzarlo attraverso un questionario che sarà possibile compilare in forma cartacea o in via telematica e dal quale ricaveremo segnalazioni, proteste, idee, proposte per la sanità del futuro. E da lì ricaveremo la nostra proposta sulla sanità nissena che rivolgeremo all'ASPA e alla regione che proprio sulla sanità in questi giorni ha fallito. Chiedono quindi un'apertura del dialogo per ricevere risposte chiare sull'attuale situazione ospedaliera anche in riferimento ai primariati, all'organico di medici e personale infermieristico e degli OSA per ogni reparto della struttura ospedaliera. Tra le azioni che a breve predisporrà il circolo c'è la diffusione di un questionario per rilevare i dati sulla qualità del servizio sanitario.